Avvocato Greco, lei è molto attenta alla situazione che c'è in questo momento in Calabria, ma particolarmente nel suo comune a Cariati. C'è necessità di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali e nazionali? Un saluto a tutti gli ascoltatori. Penso che la situazione sanità in Calabria sia ormai chiara al mondo intero, visto il periodo che stiamo vivendo e la diffusione mediatica che c'è in atto. Cariati è un comune che insieme a tutto il territorio si batte ormai da tantissimo tempo per avere sanità. Nel 2010, come tutti quanti ormai sappiamo, è stato sceleratamente chiuso un ospedale che dava risposta a circa 100.000 cittadini, senza che il contraltare dell'ospedale della Sibaritide a dieci anni di distanza abbia visto ancora la luce. È da tanto tempo che questo territorio chiede attenzione a tutti, a partire dalla regione, al governo, commissari, direttori generali, senza ottenere mai alcuna risposta. È ovvio che è venuto il momento che si dia una risposta definitiva e chiara da parte delle autorità preposte per dare appunto un punto, per mettere un punto alla situazione sanità nel basso Ionio Cosentino. Nella nota stampa che abbiamo ricevuto si legge che i servizi LEA non sono garantiti, quindi un momento molto particolare anche per Cariati. I LEA a livelli essenziali di assistenza non sono garantiti da troppo tempo in tutta la Calabria, in particolare in questo territorio, nel territorio del basso Ionio Cosentino. L'emergenza del coronavirus ci spinge a riflettere su quella che è la situazione anche sanitaria nella nostra regione. Cariati merita più attenzione anche da parte delle istituzioni regionali? Non è Cariati che ha bisogno di più attenzione, sono i cittadini di un territorio mortificato e dimenticato che hanno bisogno di attenzioni. In un territorio dove è difficile muoversi perché non esistono strade se non la 106, che come tutti noi sappiamo è conosciuta come la strada della morte, in un periodo di emergenza non possono rimanere inascoltate da parte delle istituzioni superiori, dei nostri rappresentanti, sia regionali che nazionali, le gride di aiuto dei cittadini sofferenti. Chiaramente la regione deve tenere conto anche delle strutture private, se vogliamo contenere questo virus e se vogliamo dare ai pazienti positivi una giusta attenzione. È ovvio che in questo periodo di emergenza ognuno deve collaborare attivamente e mi sembra che della stampa emerga chiaramente la volontà della sanità privata di fare la sua parte, mettendo a disposizione le proprie strutture. Ma vi permette di ricordare a tutti che ognuno di noi deve aiutare in questo momento, ognuno di noi deve fare la propria parte. Come? Restando a casa, evitando assembramenti inutili e rispettando quelle che sono le regole impartite dal governo e dalle istituzioni. Solo così possiamo neutralizzare il contagio e tutelare le persone che amiamo.